Ma che stiamo qui? A Monte Pellegrino. E ciao Favone, si è fatta la bicchieria? Perché? E che ruolo? E poi si fa la salita di Monte Pellegrino. Andiamo che è tardi. Ciao ragazzi. Ragazzi, per chi non sa cos'è la salita di Monte Pellegrino, è un pellegrinaggio che si fa di solito il 3 settembre, si va nella padrona di Palermo che si trova in cima a una montagna. C'è chi lo fa con la macchina, l'usanza vuole che si fa a piedi. Quindi ci accompagnerete in questo cammino, stasera vi rendiamo partecipi della canata. Stasera siamo con i suoi nipotini, Samuel, Morena, c'è Piero, l'oggio Maurizio. Crociamo le dita e speriamo di farcela. Io mi ascolto un pozzo Piazza. I bamboni di buitai si fa rossidio. Da, ci fermiamo a ogni rampa, ci fermiamo un pochino e poi continuiamo. ci vediamo più tardi e vi facciamo vedere, certo non prendo tutta la salita perché qualche pezzettino di salita lo faccio vedere e poi andiamo in cima, in chiesa. Non so se i video di chiesa si possono fare, però vi faccio vedere un po' il sopra. Questo video è dedicato a tutti i palermitani che sono fuori città per il lavoro. Vi mando un bacio a tutti, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. sei pronta, compa? Pronta. Io si. Io si è pronta. Non è la piccina mia? Salute. Il traguardo è lei. Il traguardo oggi è lei. Ti prendo io a presto. Oggi siamo a Monte Pellegrino. Questa è la prima rampa ragazzi. Ecco ragazzi. Per me Monte Pellegrino è come un gioco che devi fare la salita senza stancarti. Tu già ci sei venuto qua? Sì da piccolo. Quando ero ancora molto piccolo. Per me è uno po' bel periodo. Ma? Ma? La posta. A posto. La pool è ass9? Io già mi ero ass9. Come, ci sono? Non noi per cari? Mammo noter Damasco, non abbiamo tutto per delle cari. Aspettando a tutto Maurizio e poi ho passedo. Abbiamo fatto male. E unoblick rape e non mi è Dreamin. Siamo pronti! Catalu? E la salita che ti ricordate è tutto così non per dove c'è no? isia... faccio vedere il pezzettino, faccio vedere il pezzettino di strada. Ma che bello è? voglio vedere il pezzettino di tira questo è l'inizio ho capito buona cominciamo mi serve la lampadina di letto perché non si vede niente guardate che bello parermi dall'alto ragazzi ancora è la prima rampa il mio padre oggi mi sorprende è vero è la sotto ragazzi è la sotto guardate quanto persone guardate qua si vede meglio prima pausa come siete? giuse l'acqua potete che vado un'altra conferenza guardate mio padre come sta sudando prima step prima pausa ragazzi terza rampa inizio terza rampa giuse già arrivo capo giuseppe l'acqua l'acqua a dopo sempre più bello ragazzi e sempre più alti vediamo qui sai ragazzi è bellissimo guardate c'è un'arietta freschetta ma stavo nello cavolo bellissimo è stancante ma il panorama ricordo è inizio vediamo qui qui ma le poteze è nero si già sono saliti loro siamo bene andiamo continuiamo ma come si fa a fumare come fai lo sai soltanto tu una ripresa salutate ciao una ripresa veloce mamma mia che faccio è stanche? amore che dici? siamo alla quarta questa? no di più di più spingi tutto ragazzi ragazzi ancora qua abbiamo ho su Pietro qualcosa da dire spingi la lampadina non è dura ci siamo siamo ci siamo non c'è se si vede la parete Robito 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 faici se è buono vedete se lo metti più forte si ora si vi faccio vedere pure su se tocco la metti a fuoco io oggi non mi sono venuta dicendo qua ci sono altri ragazzi che fanno il pellegrinaggio vediamo giù se si vede qualcosa non sono io la luce di tuo padre va bene così dai ragazzi qualcos'altro ragazzi voglio dirvi solo una cosa se siete stanchi volete ancora continuare cantate questa canzone andiamo andiamo a passeggiare ciao il primo step non è questa diciamo la santuzza che si trova sul monte altra pausa questa è la nona sì abbiamo terminato la nona c'è pure un po d'acqua apposta cosa si è già caso ma i bambini sono belli e freschi ma perché siamo avevano occhi rossi pure guardate ragazzi sempre più alti è sempre più bello però più stancante guardate ci manca poco io prima cosa li è perché stiamo come continuando come senti via attenta ma ma lena viene messo qua che là c'è l'uomo eh questa è la penso che siamo alla dodicesima undicesima e dodicesima cioè ragazzi io non sono per niente sudata toccami vita toccami ma è fresco io ti ho mangiato oggi sei mi sono davvero vedi ok adesso voi si veniva a facciare tutto vacanio non mi vuole arrivare a dare io che sei quittata no ma sono anche un uomo ah non mi vuole arrivare a dare ah no no quello è ancora sotto più sopra perché quella è la cosa guardate noi è la sopra dentro i posti no ma è stata la passata ma è stata la passata Ita, qua sono, ciao ragazzi, perccato che non avevo tutto il gruppo, ci sono gli impegni lavorativi, è giusto, prima che nel lavoro, parla più forte, più forte, che sei morto, è bello, si sta bene, meno male che ho guardato a terra ragazzi, guardate, a poco entravo dentro un buco, la sto prendendo la salita, i cactus, la grotta, no che è, casotto abbandonato, altri cactus, giuseppe, culo di giuseppe, zainetto, come portare lo zainetto, faticoso, è leggero ma non è pesante, ci sono i ricambi, ma che tira manichalumi, rubini, penso che siamo quasi alla metà della salita, e niente ragazzi, cosa devo riprendere, prendiamo così, non ho più fiato nemmeno per parlare con voi, a dopo, baci, guardate, è mia madre mio padre, madre, i mani, e poi cazzo dirò ammè, a me non ho detto, come sa di, come sa di, come ti ha portato avanti, papà, stai salterando, guardate, questo è pesantulilla, che è come niente qua come te ne pensi di questa salita morena devi dormire se stanca è la tua prima volta perché dice ragazzo in quadro le sottile e dice ragazzi certo che mi piace sì ma gli devi dire qualcosa di questa salita è fermato parla con loro te lo vedi video di pesca ma ci segui allora consigli ragazzi di fare la salita come stiamo facendo noi no quando sei nervoso ti scaccia i pensieri che ti metti queste scarpe sono comodissima hai visto dimmi sentiram dai domani hai perso tu la consigli ho schiacciato l'occhio ho schiacciato l'occhio ma tu la consigli questa salita ma gli occhi però ti ho detto hai ragione anche dei tuoi figli un bacio ciao ah e come sempre cantate questa canzone andiamo andiamo a passeggiare guardate picciotti ci vogliono i guanti ci vogliono i guanti pieno di fichi d'india tradizione vuole che noi saliamo con i guanti cosa che quest'anno non abbiamo fatta e li raccogliamo non c'è chi è? 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 stai ispezionando o devi fare la pipì? andiamo ragazzi stiamo andando in questo casotto abbandonato la chiamiamo a Samara 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 esci Samara ora non vorresti ora non vorresti se ci sono luci ora non vorresti se ci sono luci lo sentite? si vuoi se è scoppia no no là è vero che la comunica è una barca Samara che vero cosa è che era? Samara almeno il bosco uscita 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 Samara eccomi ahhhh 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 ahhh ahhhh ahhh ahhh mi sentite qua dentro ahhh riprendiamo la salita stai lavorando salita 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 sono dicendo una parola d'amore come sei? per te è appena 10 non ne fai a puzza non ne fai a puzza non ne fai a puzza fa puzza di sudore ma ti sei lavato si stacca che vince si stacca che vince non è tanto in alto non è tanto in alto facciamo faceva facciamo 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 e era diesel ciao mati io ho fatto l'intervista un pochettino a tutti i tuoi bucata la mamma cosa hai da dire di questa salita mi fa bella questa salita ti fa bella? la consiglio agli amici? certo dai per i poimoni vero? dai per i poimoni dai per i muscoli dai per i muscoli dai per i muscoli a diesel la vai adesso con la mamma originale dai per i muscoli sempre più alti hai visto Enna abbiamo superato il castello che si vede giù sì ormai siamo all'ultima l'ultima avvocato Santurini no questa è l'ultima mella più lunga quindi si continua si continua si continua si continua l'area di montagna guarda sono dietro ci sono no hai altre persone non te lo vorrei dire non te lo vorrei dire dai pesciotti che stiamo arrivando dai stiamo arrivando stiamo arrivando vedremo i vecchi reddimi che dici com'è? bellissimo sono bellissimo non posso mi aspettavo peggio dai pesciotti a dopo bellissimo 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 dovete fare questa esperienza io non sono stanca no no completamente no io manco vai a Roma vai a Roma vai a Roma vai a Roma vedi quanto camminiamo? beh già un'ora un'oretta questa è la salita di Monte Pellegrino ragazzi ragazzi missione compiuta siamo arrivati ora c'è la piazza ora poi riprendo anche la piazza arrivati ora c'è la chiesa andiamo all'ora e quindi si vediamo che fa un'ora che che si si Grazie a tutti. Questo è il santuario. 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 Ragazzi, la Maria mia vuole caffè. Tu lo vuoi caffè? Vediamo il caffettino. Il santuario. 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 Il santuario.